buongiorno a tutti oggi approfittando del fatto che sono da solo valentina lavoro e matteo l'asilo volevo parlarvi di quello che mi era successo ebbene sì avete letto il titolo e mi hanno lasciato a casa dalla dhl e vi spiego un po come è andata allora io avevo un contratto a partire dal 22 ottobre di sei mesi a tempo indeterminato che prevede che tu faccia un corso di formazione per imparare le varie cose per lavorare in un aeroporto perché comunque lavori con il scarico scarico degli aerei io mi ero candidato per le rampe per cui ho fatto qualche settimana di corso e dopo alcune settimane io e i miei insegnanti ci siamo resi conto che col mio livello di tedesco facevo fatica a stare al passo degli altri e mi hanno consigliato di andare a lavorare all'interno nei bagazzini e io ho scelto di lavorare alla reload in pratica dove si caricano i container e io da dicembre ho iniziato a lavorare lì verso febbraio ho ricevuto un contratto a casa tramite con una lettera in cui praticamente mi adeguavano le condizioni contrattuali di pagamento a quelle di tutti gli altri visto che alle rampe essendo un lavoro più di responsabilità si viene pagati qualcosina di più e questo contratto era a tempo determinato così che io ho festeggiato ero contento ho detto finalmente sono a tempo determinato nonostante la mia prima di prova scadesse il 22 aprile e in quel contratto non si parlava assolutamente di periodi di prova io mi sono un pochino rilassato e iniziato a fare come tutti gli altri allora vi spiego in germania quando tu lavori sei ore di fila hai diritto a mezz'ora di pausa però oltre a questa mezz'ora di pausa io come tutti i miei colleghi facciamo delle pause brevi magari di 5-6 minuti per andare in bagno piuttosto che fumare una sigaretta o mangiare uno snack o prendere un caffè e io queste pause inizialmente quasi non le facevo aspettavo la mia mezz'ora di pausa dopo questo contratto a tempo determinato iniziato a farle anch'io però mi sembra giusto ce le fanno gli altri le faccio anch'io siamo tutti uguali e un bel giorno verso metà aprile ho ricevuto una lettera in cui dicevano che loro rescindevano il contratto dal periodo di prova con una settimana di anticipo ovvero dal 16 aprile e io ci sono rimasto un attimino lì perché ho detto sono a tempo indeterminato non possono farlo sono andato a rileggere quel contratto e invece potevano perché c'era una piccola postilla che io non avevo letto in cui dicevano che valevano le condizioni contrattuali riguardo al periodo di prova e riguardo al licenziamento del contratto precedente però non era tanto chiaro come contratto alla fine ci sono rimasto un pochino male diciamo che la cosa che mi ha fatto arrabbiare è stato il fatto che in tutti questi mesi durante il mio periodo di prova non è mai venuto nessuno a dirmi roberto guarda non stai facendo il tuo devi lavorare di più devi essere più veloce devi rendere di più io avrei cercato di fare qualcosa di migliorare invece nessuno se me l'ha detto è un'altra cosa che trovo molto brutta è il fatto di essere lasciato a casa tramite con una lettera perché non uno dei capi non si è preso la briga di venirmi a parlare e dirmelo personalmente l'avrei accettato di più cioè io non contesto il motivo contesto il modo in cui è venuta questa cosa cioè io sono un essere umano ho diritto a essere trattato come tale ho diritto che qualcuno mi venga a parlare non che mi licenzino con una lettera non lo so sarà che alla fine io ho maturato un'idea che secondo me quando si lavora per qualcun altro non vale la pena sbattersi troppo farsi il mazzo fare straordinari perché cosa e per poi quando non hanno bisogno di te ti lasciano a casa sono andato a lavorare delle volte con la febbre da malato non lo so sono rimasto un attimino basito dal modo in cui è arrivato tutto ciò se avete avuto anche voi delle esperienze del genere in germania in italia o in altri posti scrivetelo nei commenti e lasciate un bel like iscrivetevi al nostro canale e ciao a tutti noi come sempre ci rivediamo al prossimo video